La situazione politica italiana sembra in piena ebollizione. Con l'avvicinarsi delle elezioni amministrative si moltiplicano le diverse ipotesi e si favoleggia anche sui possibili scenari futuri che si potrebbero delineare la sera del 21. Certo, era già accaduta una cosa del genere alla vigilia delle elezioni in Emilia-Romagna, la regione rossa per eccellenza, ma obiettivamente allora si votava per una sola regione, per quanto è importante naturalmente. Fra meno di tre settimane invece si vota ben in sette regioni. Quindi questa è una differenza non da poco, lo dico brutalmente. Rispetto alle elezioni del gennaio scorso in Emilia-Romagna, il 21 di settembre sono in ballo molte più poltrone e questa non è una cosa da poco. Ma non solo, c'è anche un referendum, il cui esito, anche se scontato, potrebbe comunque davvero essere e risultare devastante. Un'eventuale vittoria del no sarebbe una vera e propria bomba in grado di demolire non solo l'attuale governo, ma farebbe deflagrare l'intero Movimento 5 Stelle. Io continuo a ritenere la vittoria del no un'ipotesi puramente irrealistica, ma soprattutto perché il taglio dei parlamentari giova in particolare ai maggiori partiti e inoltre premia a chi ha la maggioranza dei consensi elettorali ed oggi innegabilmente in Italia prevale il voto di centrodestra. Quindi alla Lega e a Fratelli d'Italia il taglio dei parlamentari farebbe comodo, oltretutto per ridimensionare ulteriormente un partito della coalizione che in questo momento è in piena crisi come appunto Forza Italia. Ma ripeto, la vittoria del no sarebbe comunque un fatto in grado di cambiare totalmente l'assetto politico italiano. Il Movimento 5 Stelle senza dubbio il promotore di questa riforma probabilmente si frantumerebbe e tornerebbe prepotentemente in campo chi oggi in quel partito sta seduto in panchina, ormai anche da diverso tempo, naturalmente mi sto riferendo ad Alessandro Di Battista. Ma a mio avviso questa ipotetica vittoria del no avrebbe come conseguenza quello di far nascere un nuovo partito, il partito di Conte. Conte potrebbe coagulare attorno a sé una parte del voto moderato, anche se io sono sempre convinto che poi finirebbe per fare la fine di scelta civica, insomma, ricordate il partito di Monti. Ma torniamo a noi, perché anche escludendo questa eventualità, ripeto, puramente immaginaria, ovviamente potrebbero esserci ripercussioni a livello governativo anche con una vittoria diciamo risicata del sì. Non sarebbe infatti la stessa cosa se il sì vincesse 90 a 10 anziché 60 a 40. Nel secondo caso comunque nascerebbero dei malumori all'interno della coalizione di governo, che già oggi poi si sono un po' manifestati. Ma comunque, almeno stando alle ultime dichiarazioni infatti, sono più i partiti all'interno della coalizione governativa ad essere scettici nei confronti di questa riforma costituzionale. Ricordiamo che il PD per ben tre volte aveva votato contro, solo la quarta ha votato a favore e, naturalmente, soltanto perché aveva nel frattempo costituito l'attuale governo. Ma innegabilmente, insomma, inutile girarci intorno, sarà l'esito delle elezioni amministrative a determinare il futuro politico del nostro paese. Purtroppo, e lo sappiamo tutti, che le poltrone scaldano gli animi più di ogni altra cosa. Abbiamo avuto un esempio eclatante con la spartizione dei posti nelle principali grandi aziende pubbliche o comunque, insomma, nel quale la partecipazione pubblica è rilevante. E qua abbiamo visto all'opera il Movimento 5 Stelle che si è stuffato letteralmente in questa mangiatoia. Al confronto i socialisti di Craxi erano dei dilettanti. Veramente una brutta, una bruttissima fine quella che hanno fatto coloro che gridavano onestà, onestà. Comunque, in queste elezioni amministrative a pagare il maggior scotto sarà il Partito Democratico, questo è indubbio. E' vero che i 5 Stelle conquisteranno solo poche, pochissime poltrone, ma non ne perderanno nemmeno tante, visto che comunque ne avevano già pochissime. A perdere le poltrone, ripeto, sarà principalmente il Partito Democratico. D'altronde, se andiamo a vedere come ha governato le regioni, non ci sarebbe assolutamente da stupirsi. I marchigiani non ne possono più. E lo hanno già manifestato da tempo, che vogliono, dopo tantissimi anni, dal 1995, per la precisione, cambiare amministrazione. L'aspetto però clamoroso risiede nel fatto che dal 1995 le Marche hanno un'amministrazione di sinistra, ma precedentemente i presidenti della regione sono stati espressione di diversi partiti, ma sempre lì, insomma, Partito Comunista, Partito Socialista, Democrazia Cristiana, Partito Popolare. Insomma, fa indubbiamente clamore che, almeno stando ai sondaggi naturalmente, i marchigiani stiano per eleggere un governatore che è un esponente di Fratelli d'Italia, partito che alle precedenti elezioni aveva eletto un solo consigliere regionale. Insomma, nelle Marche è probabile che assisteremo ad un vero e proprio cambiamento epocale. Situazione, non dico simile, ma che ha comunque delle analogie con le Marche, per la Puglia, dove l'attuale governatore, Michele Emiliano, che, nonostante non perda mai occasione ad ogni ospitata televisiva di lodare la sua gestione della regione in questi anni, dicevamo, Michele Emiliano pare comunque che non goda del conforto da parte dei suoi cittadini. Pare proprio che i pugliesi non la pensino come lui. Oggi sono stati resi pubblici addirittura due sondaggi sulle intenzioni di voto in Puglia. Nel primo, la società Ipsos, un sondaggio della società Ipsos, un sondaggio commissionato dal Corriere della Sera, beh, in questo sondaggio il candidato del centrodestra, cioè Raffaele Fitto, sarebbe, seppur di poco, di un punto e mezzo, in vantaggio sull'attuale governatore. Mentre nel secondo sondaggio della società EMG Acqua, commissionato da Affari Italiani, il vantaggio del candidato del centrodestra sarebbe più consistente, ben 5 punti percentuali. Situazione di testa a testa, ma stavolta con una leggera prevalenza per il candidato di centrosinistra, si registra in Toscana, una regione che, vabbè, se dovesse davvero cambiare amministrazione farebbe certamente scoppiare un terremoto politico. E c'è qualcuno, almeno stando alle voci di corridoio, che attualmente fa parte della compagine governativa, eh, ma che si augura una sconfitta elettorale. Chi sarebbe? Ma certo che è lui, Matteo Renzi. Matteo Renzi, infatti, da una debacle del PD, potrebbe soltanto avvantaggiarsi. Non perché ne beneficerebbe il suo partitino, ormai, vabbè, l'esperienza di Tagliaviva è già risultata, senza ombra di dubbio, completamente fallimentare. Ma proprio per questo Renzi spera in un fallimento del PD. Un fallimento del PD, dal punto di vista mediatico, oscurerebbe il disastro di Tagliaviva. E secondo molti permetterebbe a Renzi, proprio, di chiudere, diciamo, in sordina, ecco, l'esperimento Italiaviva, tornando all'interno del PD. Naturalmente salterebbe la poltrona di Zingaretti, un segretario che definirei imbarazzante. Alla segreteria arriverebbe Stefano Bonaccini, uno che viene osannato soltanto per aver mantenuto in Emilia-Romagna un'amministrazione di sinistra. Guardate, chiunque sia stato un solo giorno in Emilia-Romagna capisce immediatamente che per la sinistra perdere quella regione è praticamente impossibile, visto che è una regione totalmente controllata dalla politica. La lasciamo aperta. Insomma, Bonaccini andrebbe a sedersi sulla poltrona di Zingaretti e Renzi rientrerebbe nel PD. Ma un cambio del genere potrebbe, ovviamente, non avere ripercussioni anche sul governo. A rimpastino o rimpastone. Comunque sia, si vocifera che Renzi, almeno al momento, non richiederebbe particolari incarichi, ma si limiterebbe a pretendere una poltrona per la sua pupilla, cioè Maria Elena Boschi. Insomma, è probabile che per la fine del mese ne vedremo delle belle.